Una celebrazione eucaristica seguita da un piccolo rinfresco. L'arcivescovo Matteo Zuppi ha voluto questo momento di condivisione per uno scambio di auguri natalizi con le varie componenti della curia diocesana, i direttori degli uffici, collaboratori, numerosi volontari che sostengono il servizio del centro diocesano nei vari ambiti, dalla pastorale giovanile alle comunicazioni sociali, dalla caritas alla liturgia, la famiglia, la scuola, l'ufficio amministrativo, i servizi ausiliari per citarne solo alcuni. A tutti l'arcivescovo ha fatto dono di un simpatico volume appena pubblicato dalla editrice Cantagalli, Filastrocche e Canarini, il mondo letterario di Giacomo Biffi. Il testo raccoglie una serie di conversazioni di prestigiose voci della cultura contemporanea che indagano le passioni letterarie del cardinale Biffi, da Ambrogio a Dante, da Guareschi a Bacchelli, da Chesterton a Tolkien fino al russo Soloviev, senza dimenticare l'amato Pinocchio. Le intuizioni letterarie di Biffi, scrive Monsignor Zuppi nella postfazione, dimostrano ancora una volta la grandezza di quest'uomo, dono per la Chiesa, non solo felsinea, ma universale.